Salve ragazzi e benvenuti in questa video lezione di robotica qualcosa di un po' particolare rispetto alle lezioni che facevamo in presenza spero vediamo un po' di riuscire a farvi capire alcuni concetti fondamentali della robotica utilizzando una scheda Orion viene prodotta da MacBlock che è il produttore anche dei robot che abbiamo utilizzato nel nostro laboratorio GameBot è una scheda molto semplice da utilizzare si basa sempre su Arduino il vantaggio è che i cablaggi sono garantiti da questi che vedete qui da queste otto porte che vedete qui che sono delle semplici RJ25 quindi con dei cavetti basta in modo molto semplice collegare le porte dei diversi sensori dei diversi input tutti i diversi componenti che abbiamo per poter successivamente programmare la scheda e realizzare quello che noi vogliamo e cosa vi farò vedere vi farò vedere un semplice semplice nella concezione però non vedrete che non è molto semplice la realizzazione un semplice gioco molto in voga negli anni 70-80 che si chiama Walk & Mall vi faccio vedere di che cosa si tratta come vedete avevano un martello e dovevano colpire una talpa che in modo assolutamente casuale usciva da questi ori e ogni volta che la talpa veniva colpita il punteggio aumentava bene come realizzeremo questo progetto con questi semplici componenti ovvero una scheda Orion un modulo RGB abbiamo visto che cosa sono i moduli i LED RGB quindi questo è un modulo che contiene quattro diversi LED poi vi farò vedere qual è lo scopo un joystick e un semplice display a set segmenti guardate questo qui è il modulo che contiene i quattro LED e la prima cosa che devo prestare attenzione è la posizione dei LED è il nome LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 perché i LED in poche parole saranno la nostra talpa quindi questi LED si accenderanno più o meno velocemente quindi e in modo assolutamente casuale quindi potrebbe accendersi il LED 1 il LED 3 il LED 4 il LED 2 il joystick non sarà altro che il martello ovvero quando si accenderà il LED 1 e io con il pollice sposto avrò spostato la levetta verso l'alto avrò colpito la mia talpa avrò colpito il LED 1 quindi il LED da per esempio blu diventerà rosso quindi tutto questo dovrà avvenire in modo abbastanza veloce e soprattutto assolutamente casuale l'ultimo componente è il display che fornirà il punteggio quindi ogni qualvolta attenti anche alla nomenclatura ogni volta che il LED 1 e il joystick avranno la stessa posizione quindi il LED 1 e il joystick andrà verso l'alto colpirà il LED 1 il display mostrerà un punteggio quindi avrò ottenuto un punteggio maggiore 1 2 3 il gioco potrebbe anche essere più complicato facendo in modo che qualora invece io sbagliassi però questo caso non ve lo mostrerò adesso potreste voi ad esempio ragionare su questa seconda ipotesi qualora sbagliassi invece di aumentare il punteggio potrebbe anche diminuire quindi per esempio il LED 2 invece che io spostare la levetta verso destra l'ho spostata verso sinistra invece che aumentare il punteggio potrebbe diminuire questo è quello che io dovrò realizzare e cosa utilizzerò utilizzeremo il nostro classico ambiente di programmazione ovvero Mblock ora apro Mblock ed inizieremo insieme a programmare spiegando cercherò di spiegarvi di volta in volta i vari passaggi e il significato di questi passaggi voi iniziate prima di proseguire con il video iniziate a riflettere su quello che serve su quello che potrebbe accadere quello dobbiamo creare delle variabili sì penso una potrebbe essere già ad esempio solo ed esclusivamente quella del punteggio ci servono altre variabili iniziate a riflettere prima di andare avanti stoppate e cercate di iniziare a ragionare su quella che potrebbe essere un possibile programma che potrebbe svolgere questo compito ripeto il concetto il joystick rappresenta il martello il modulo con 4 led rappresenta la talpa quindi queste dovranno muoversi in modo casuale e quando i due il joystick è disposto nel verso dell'ed1 dell'ed2 dell'ed3 o dell'ed4 questo il punteggio dovrà aumentare adesso vi mostrerò come utilizzare mblock che è il nostro ambiente di programmazione per blocchi per realizzare il programma che vi permetterà di utilizzare e di ottenere il risultato che c'eravamo prefissati apro mblock attenzione una cosa io utilizzo la versione 3.4.12 per windows in questo caso utilizzo questa versione perché paradossalmente rispetto alla nuova versione mi permette forse è una questione personale mi permette di riuscire a trovare con più semplicità quelli che sono i blocchi da utilizzare e si interfaccia meglio con la scheda orion quindi ho aperto mblock vado a scegliere la scheda starter ultimate orion e in questo caso già su robot ho tutti i comandi tutti i blocchi che permettono di comandare questa scheda ok primo aspetto da tenere in considerazione le variabili che andrò ad utilizzare riflettiamo insieme su quelle che sono le variabili richieste quindi vado a creare una prima variabile beh quella sicuramente più semplice di tutte è quella che è il contenitore relativo al punteggio ok quindi ho creato questa prima variabile che sarà quella che sulla quale andrò ad inserire gli incrementi di punteggio poi vediamo di riflettere quali altri variabili possono servirci beh quello che noi dobbiamo fare è comandare i led fare in modo che i led si possono accendere assolutamente in modo casuale quindi andrò a creare una seconda variabile e la chiamerò led ok vediamo quale altra variabile mi può servire beh sono altre due le variabili che mi interessano quelle che associeranno i movimenti a cui associare i valori che prenderanno i valori del joystick che sono due uno è il movimento sull'asse delle x quindi la chiamerò x e l'altra variabile sarà il movimento sull'asse delle y ok una volta che ho creato le mie variabili la prima l'ho messa come lista la creo come ok benissimo una volta che ho creato questo passo alla compilazione dello script situazioni partiamo quando si clicca sulla bandierina verde andiamo a vedere che cosa accade e il primo comando che io andrei ad impostare proprio il display quindi il display a sette segmenti vado a trovare il blocco relativo al display a sette segmenti ok scelgo la porta in questo caso nel nostro caso l'ho inserito nella porta 4 al numero andiamo 0 quindi il valore che comparirà sul display è proprio lo 0 ora andiamo a settare il modulo led cerchiamo il modulo led eccolo qui e vado a impostarlo e in questo caso nella porta 3 è corretto tutti i led perché in questo modo vedete i led sono 4 io porto tutti i led sul spento quindi rosso 0 verde 0 blu 0 ok cosa vado a fare punteggio ho la mia variabile punteggio e quindi porta scelgo punteggio a 0 ok la variabile punteggio è impostata su 0 andiamo a definire la parte più complessa dello script cosa dovrò fare riflettete insieme a me quindi dovrò impostare nella variabile led un valore casuale un valore casuale che mi permetta di accendere o il led 1 o il led 2 o il led 3 o il led 4 quindi che cosa succederà che dovrò innanzitutto è una si è un controllo che dovrà essere fatto per sempre quindi è un ciclo continuo e dovrò prendere la variabile led ok beh ora che cosa faccio io quindi questo led è impostato su 0 quindi 0 naturalmente non accende niente perché i valori del led sono 1 2 3 4 quindi se io scrivessi led a 1 si accenderebbe il led 1 quindi in questo caso io dovrò impostare qualche cosa un operatore c'è un numero casuale e questo numero casuale riflettete che valori dovrà avere prima di andare avanti riflettete un attimo quindi è un numero casuale che varia da guardate qui ci siete arrivati immagino da 1 a 4 quindi il numero casuale del led sarà un numero che varia da 1 a 4 e questo avverrà in modo del tutto casuale e continuo quindi una volta si accenderà l'1 magari il 3 il 2 il 3 e così via ora io ho portato la variabile led a un numero che varia da 1 a 4 a questo punto cosa devo fare devo settare il valore il led il modulo led che si trova nella porta 3 a che cosa al valore di led ok quindi casualmente è uscito 2 qui ho portato il led faccio in modo che il led numero 2 si accenda con il colore blu di 20 con un'intensità di 20 ok a questo punto cosa faccio porto il valore delle x quindi vado a impostare il contenuto della variabile x a che cosa al movimento del joystick vado sul robot vado a cercare joystick vediamo ora vediamo di trovarlo quindi il joystick eccolo qui quindi dove si trova con quale porta è collegato la porta 6 va bene il valore dell'asse x quindi quando il joystick si sposterà sull'asse x di un determinato valore la variabile assumerà quel valore la stessa cosa la dovrò fare con la variabile y porta y a che cosa al valore sempre del joystick che si trova però questa volta il valore dell'asse y selon bene questa è la parte iniziale del nostro script andiamo a vedere adesso le condizioni ok facciamo iniziamo se se che cosa andiamo a vedere il valore del quindi se il valore del led della variabile led è uguale a ora vado a impostare i singoli casi quindi se 1 se 2 se 3 se 4 che cosa dovrà accadere iniziamo se led è uguale al valore 2 quindi si accende il led di sinistra e contemporaneamente cosa dovrà accadere e se il valore del joystick quindi se il joystick si sposta sulla sinistra quindi per spostarsi sulla sinistra il valore della x il valore della variabile x dovrà essere inferiore quindi si sposta a meno 90 quindi se x è inferiore di 90 quindi se prima di ogni cosa è comparsi il numero 2 immaginate ok e se contemporaneamente il valore del quindi se è comparsi il numero 2 e se il valore delle x quindi io ho spostato il joystick sulla sinistra ho colpito la talpa quindi il led da blu lo farò diventare rosso quindi che cosa accadrà setto il valore del setto il valore del led ok su rosso ok quindi accadono queste due condizioni il valore del led da blu diventa rosso e contemporaneamente dovrò cambiare il punteggio di 1 cambio il punteggio di 1 e naturalmente dovrò settare il valore del display che si trova nella porta 4 al nuovo valore della variabile punteggio quindi da 0 è passata ad 1 quindi questa è la prima parte del nostro script quindi come ho detto dovrò ripetere la stessa operazione capite è un lavoro un po' più lungo per tutti gli altri valori quindi ripeto l'operazione controllo se lo mettiamo qui bene vediamo se riesco ad andare un po' più in basso ok se ripeto quello che è accaduto il valore del la variabile led è 4 quindi ora mi dovrò spostare verso destra se riesco a farvi vedere un po' meglio quindi ok vado su se allora andiamo sempre verso il basso quindi questa volta dovrò impostare il come ho fatto qui il valore della x verso destra quindi riprendo l'operatore questa volta deve essere maggiore se il valore della x è maggiore di 100 questi valori sono stati determinati guardando cosa accade quali sono i valori che trasmette il joystick spostandosi verso destra verso sinistra verso l'alto e verso il basso quindi se il valore è maggiore di 100 dovrò ripetere nuovamente questa questo script lo duplico lo inserisco qui quindi vado a vediamo se ho fatto bene quindi vado a impostare il valore del led nuovamente sul rosso e cambio il punteggio nuovamente di 1 bene continuo l'operazione ora devo andare verso l'alto quindi nuovamente ora per semplicità copio direttamente aspettate copio direttamente questa parte di script la vado a impostare qua sotto e cambio soltanto i valori quindi se led è uguale a 3 questa volta quindi devo andare verso l'alto la variabile non sarà più la x ma sarà la y maggiore di 100 nuovamente il led la talpa è stata colpita e ok ho ripetuto duplico nuovamente quest'ultima parte di script la vado a mettere qua in basso ok alzo tutto quindi devo andare verso il basso se led è uguale ad 1 aspettate l'ho sbagliato lo devo mettere qui perché altrimenti non funziona ok se il led è uguale a 1 la questa volta l'operatore lo devo completamente cambiare perché deve essere inferiore se il valore della y è inferiore a meno mettiamo 50 così abbiamo questo valore abbiamo nuovamente impostato set led porta impostato sullo 3 a 0 e volevo dire a rosso e quindi si accenderà benissimo e ho cambiato nuovamente il punteggio ho fatto l'operazione per il led 1 per il led 2 per il led 4 per il led 3 per il led 1 e per il led 2 ok perfetto completo lo script completo lo script mettendo set il valore del led così almeno chiudo lo script qui in basso set il led porta su tutti i valori dello 0 quindi spengo completamente il valore del led in modo tale che possa dare quindi possa tornare alla situazione originaria lo script è quasi pronto perché dico quasi pronto perché in questo modo questa istruzione verrebbe eseguita in modo assolutamente istantaneo sarebbe praticamente quasi impossibile riuscire a effettuare il gioco perché non avrei il tempo materiale di far avvenire le due condizioni in modo sincronico quindi che cosa faccio almeno che quindi non spostassi prima il joystick ma sarebbe un non sarebbe un vero e proprio gioco funzionante quindi faccio una cosa vado ad impostare un ritardo qui di dipende dal difficoltà del gioco posso impostare un ritardo di 0,5 secondi quindi o più o meno mezzo secondo per riuscire ad guardare il led e contemporaneamente spostare il joystick nella situazione del nella situazione per poter effettuare questo per poter beccare il led e quindi fargli cambiare di colore fargli cambiare il colore ok ora vi mostrerò che cosa accade quindi devo collegare la scheda orion al pc e cliccare sul tasto verde ricordate sempre di salvare per adesso io non l'ho fatto e gli date un nome grazie Grazie a tutti